Ciao a tutti, due anni e mezzo fa ho iniziato questo bellissimo percorso e non mi sarei mai aspettato di arrivare ai risultati che stiamo avendo. Tutto inizia quasi per gioco, per una battuta perché la nostra bellissima città non è adatta al turismo, cioè non ha una grande affluenza di turismo e quindi sembrava una banalità, una cosa impossibile. Oggi ci troviamo che, a parte che quando avevamo una struttura sempre piena, due sempre piene, quattro sempre pieno, sei sempre pieno, adesso ormai siamo abituati ad avere il 100%, ma la novità qual è? Una volta andavamo in giro a parlare, mandavamo lettere, mail a proprietari per cercare di farci dare o in gestione o in affitto i loro appartamenti, ma ci trattavamo come se fossimo dei delinquenti e tante volte mi ricordo che, ma guardi che è illegale la sublocazione, ma voi siete gente, ma andatevene al sud da dove siete venuti, se è banalità, qua oggi abbiamo tantissimi proprietari che ci chiedono di gestire i loro appartamenti o in partnership con noi o di darceli in affitto e abbiamo dovuto dire, un attimo, siamo pieni, ormai abbiamo diversi cantieri aperti da settembre a dicembre, abbiamo già adesso quasi triplicato il numero che avevamo fino a qualche mese fa di strutture e da settembre a dicembre, a dicembre scusami, del numero che abbiamo raddoppieremo ancora. E parlando solo di Reggio Emilia, stiamo aprendo strutture in Sicilia e abbiamo delle proposte per aprire anche vicino al lago di Carta. Quindi questo successo era insperato e mi ha portato a riflettere. Oggi noi facciamo coaching a persone che vengono da noi, stanno alcuni un giorno, alcuni due giorni e una volta mi sembrava impossibile essere capace io di insegnare ad altri perché dicevo, boh, ma non sono un professore di scuola. Invece che è successo? Sono diventato un maestro di vita diciamo in questo senso perché insieme con il mio staff abbiamo iniziato veramente da zero senza capirci nulla. Oggi abbiamo veramente un successo che ci gratifica, ci gratifica tutti, stiamo crescendo a dismisura. Oggi non riusciamo a soddisfare nella richiesta delle persone che vogliono venire nelle nostre strutture perché abbiamo sviluppato un sistema, creato un format che chi viene vuole ritornare da noi e non va da altri nella nostra zona, più quelli che arrivano nuovi e nonostante che adesso le strutture sono veramente un bel po', abbiamo sempre persone a cui dobbiamo dire mi dispiace però guarda che tra due mesi avremo altre strutture. Quindi successo è insperato, sono contento di questo e trasmetto a chi viene per fare la coaching con me, dicono che io non sono il guru, non sono l'uomo che parla a migliaia di persone nello stadio San Paolo ma chi viene veramente per imparare questa attività, per farla davvero, a quanto dicono sono, trasmetto veramente tutte le chicche, tutti i sistemi giusti per poter riuscire. Quindi con questo volevo condividere con chi guarderà il filmato il piacere dei successi che stiamo avendo, neanche io nonostante che sono un sognatore mi aspettavo in così poco tempo di riuscire ad avere un successo così importante. Quindi ringrazio l'universo, ringrazio i miei collaboratori, ringrazio la perseveranza che abbiamo avuto per crederci e anche se non eravamo a Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Bologna, ma eravamo in una città un po' più piccolina con meno pretese, siamo riusciti comunque a creare veramente una cosa molto interessante. Quindi oggi fioccano anche le richieste delle coaching e da qui a settembre saremo strapieni. Grazie di tutto, anzi colgo l'occasione in questo filmato per ringraziare tutte le persone che hanno creduto in noi, a tutti i ragazzi che ci stanno chiedendo e prenotando per avere le coaching con noi e ai proprietari che ci stanno chiamando per affidarci il loro appartamento. Quindi prossimamente cominceremo con le ville, ma adesso siamo ancora ad appartamenti. Quindi grazie di tutto, buon weekend a tutti e il prossimo filmato sarà lunedì con un tema molto interessante. Ciao!